Cambiamo argomento, parliamo di cronaca e soprattutto dell'appello dei parroci di Canosa di Puglia che assieme al Vescovo della Diocesi di Andria, Monsignor Luigi Manzi, hanno rivolto alle istituzioni affinché mettano in atto delle concrete azioni a contrasto della criminalità organizzata. Questo all'indomani dell'ennesimo atto intimidatorio ai danni di un supermercato del Paese. Sentite. Nel periodo natalizio le esplosioni che scuotono le nostre città sono un segno di gioia, un segno evitabilissimo, ma comunque un segno che esprime lo spirito della festa. Di tutt'altro tenore le esplosioni che stanno scuotendo Canosa di Puglia in questi ultimi giorni, i veri e propri attentati dinamitardi ai danni delle attività commerciali. A sottolineare la drammatica escalation criminale che sta preoccupando la comunità canosina è il Vescovo della Dioce, Monsignor Luigi Manzi, che in una nota firma congiunta con tutti i sacerdoti presenti in città, sottolinea come l'ennesima bomba scoppiata dinanzi alle saracinesche di un'attività commerciale, insieme ad una serie di attentati che negli scorsi mesi hanno visto l'incendio di autoveicoli in diverse zone della città e ancora gli ormai frequenti atti vandalici, anche ad opera di minori, che si verificano nella villa comunale e in molti quartieri sono forti segnali che seriamente ci preoccupano. Dinanzi a tutto questo, prosegue il presule, ci sentiamo innanzitutto di esprimere la nostra solidarietà verso i proprietari e dipendenti del supermercato ardito in via dei Tigli e verso tutti coloro che hanno subito negli scorsi mesi attentati di vario genere. Alla luce di quanto avvenuto, chiediamo alle autorità competenti e alle istituzioni pubbliche di mettere in atto azioni più efficaci di contrasto all'illegalità e di assicurare un controllo migliore e più costante delle nostre strade attraverso l'ausilio delle forze dell'ordine mirato ad assicurare una maggiore sicurezza e serenità dei cittadini. Sollecitiamo inoltre la comunità cittadina a non rimanere indifferente dinanzi a questi episodi, ma anzi ad assumere un atteggiamento di responsabilità e di coscienza civica denunciando eventuali atti delinquenziali alle autorità competenti. Concretamente i sacerdoti di Canosa, conclude Monsignor Mansi, si impegnano a chiedere un incontro a breve scadenza con le autorità competenti e con le forze dell'ordine. Inoltre la comunità parrocchiale di Gesù Liberatore, per trasformare un gesto di odio in gesto di solidarietà, si impegna a promuovere una spesa solidale presso i supermercati Ardito, che nel frattempo sono già tornati in attività, i cui prodotti andranno a favore della carita sparrocchiale.